5 marzo 1946. In un discorso pronunciato al Westminster College di Fulton, Missouri, Winston Churchill pronuncia la famosa frase sulla cortina di ferro che, secondo molti storici, segna l'inizio della guerra fredda. Diamo il benvenuto alla Russia nel suo giusto posto tra le più grandi nazioni del mondo. Siamo lieti di vederne la bandiera sui mari. Soprattutto siamo lieti che abbiano luogo frequenti e sempre più intensi contatti tra il popolo russo e i nostri popoli. È tuttavia mio dovere prospettarvi determinate realtà dell'attuale situazione in Europa. Da Stettino nel Baltico a Trieste nell'Adriatico, una cortina di ferro è scesa attraverso il continente.